ma sono in diretta. no, sei registrato, vai in onda domani sera. puoi aspettare un secondo? di dove stai tu? io sono di parma, tipo inter però. quattordici. quindi sei interista? si, pijama. grande, bravo. come ti chiami? posso, Gianluca, posso farti salutare un attimo mio papà? va bene. va chi ti vuole salutare? ciao bobo. tutto a posto? com'è qua? sta bene, tutto a posto. è uno scherzo? no, no, è vero. anche tu interista? non è uno scherzo. no, faccio delle dirette tutte le sere, poi ogni tanto chiamo le persone normali, no? quindi tuo figlio ha scritto Forza Inter, allora... ma noi non siamo normali. ma noi non siamo normali. nessuno è normale al mondo, quindi va bene, siamo tutti ok. volevo solo salutarvi. certo che sono interista, secondo te. va bene, va bene. questo è te. passate una buona serata. grazie. ciao grazie. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.